I sussurri che arrivano dalla sede di via San Leonardo sembrano incoraggianti. La trattativa va avanti, prosegue, il gruppo di imprenditori non campani e ci sarebbe comunque anche una finanziaria è più che mai intenzionato a scendere in campo per salvare la Salernitana, assicurandole un futuro meno tribolato. Lo schiavo, che sarà amministratore unico della società fino a fine mese, dovrebbe presto, molto presto, convocare l'assemblea straordinaria dei soci che dovrà ricapitalizzare. Ma come spesso detto, dallo stesso lo schiavo, l'abbattimento delle perdite verrebbe effettuato dai nuovi proprietari. Almeno questa è l'intenzione. Ad inizio mese, tra l'altro, bisogna cacciare poco meno di un milione e mezzo di euro per riequilibrare in parte i conti societari, senza dimenticare la scadenza della rateizzazione rario di metà aprile e poi il pagamento degli oneri contributivi di questa stagione, mai versati, e soprattutto gli stipendi ai calciatori. Ed allora, se lo schiavo starebbe portando a termine un'operazione importante e determinante per il futuro del calcio salernitano, bisogna pure registrare qualche spiffero che, ribadendo i malintesi in diretta tv di domenica scorsa tra Lombardi e lo schiavo, evidenzierebbe anche un estremo tentativo dello stesso Lombardi di verificare la fattibilità di un'altra operazione. Tutto ciò, è bene dirlo, però, porterebbe in modo pericoloso ad allungare i tempi e disorienterebbe anche i potenziali acquirenti, per intenderci quelli contattati dallo schiavo. Proprio ai possibili futuri proprietari della salernitana, il sindaco della città Vincenzo De Luca ha rivolto un messaggio distensivo. Il primo cittadino, ieri pomeriggio, durante la trasmissione della nuova Salerno, è stato estremamente chiaro. L'amministrazione farà di tutto per creare l'ambiente e le condizioni più favorevoli nella distinzione dei ruoli e nel rispetto delle leggi. Per il resto, ovviamente, invito chi volesse farlo a farlo, questo investimento, perché quella di Salerno è una grande piazza, c'è un grande retroterra anche sportivo e può essere davvero un grandissimo investimento. L'amministratore unico lo schiavo ha voglia di chiudere la trattativa per fine mese. Nel frattempo si sta già attivando per la riorganizzazione del club. E come riferito già lunedì sera, durante la trasmissione col su gol, un ruolo potrebbe averlo Bruno Iovino, ora direttore generale della Nocerina, ma in scadenza di contratto con la società Molossa. Esperto conoscitore di carte federale a Iovino, potrebbe essere proposto un incarico importante. Suglio Vino però ci sono anche Verona e Ternana, senza dimenticare comunque che la Nocerina presto potrebbe proporgli il rinnovo.